Un vero e proprio ritorno di fiamma per il Pescara. Luca Vido e Carlos Embalo tornano di prepotenza nel mirino del presidente Daniele Sebastiani, due giocatori che sono stati obiettivi notevoli del Delfino la scorsa estate ma che poi non si sono mossi dalle rispettive squadre. Tramontata l'ipotesi del figlio d'arte Yanis Agi, Zeman aspetta un rinforzo di qualità tra gli esterni d'attacco ed Embalo ha numeri e qualità per fare al caso del Delfino. A Palermo gli spazi si sono ristretti soprattutto nell'ultima parte del campionato e il modulo di Tedino non esalta le qualità come potrebbe fare il 4-3-3 Zemaniano. Sull'esterno della Guinea Bissau c'è anche la sua ex squadra il Brescia, una concorrenza forte. Embalo lascerà Palermo in prestito e il Pescara spera di spuntarla grazie anche ai buon uffici con il DS Rosa Nero Lupo e l'agente del calciatore Accardi. Sempre in prestito si è riaperta la strada che porta Luca Vido, l'Atalanta ha tante richieste dalla B per il centro avanti ma preferirebbe Pescara perché il gioco di Zeman esalta gli attaccanti ed anche per il solido rapporto di collaborazione che si è instaurato tra la Dea e il Delfino. Vi avevamo detto che il principale problema è quello dello spazio da concedere a Vido in un ruolo nel quale i biancazzurri contano su uno dei migliori bomber della categoria, Pettinari. Resta questo il nodo cruciale ma che potrebbe essere sciolto positivamente un po' perché su Pettinari ci sono le attenzioni di alcuni club di A, un po' perché la riserva designata per la seconda parte della stagione, Cocco, potrebbe finire a Palermo nell'affare Embalo. Si aspetta nel frattempo la chiusura dell'operazione in uscita per Simone Andrea Gans, direzione Ascoli. L'accordo tra le società c'è da tempo, al Pescara andranno 1,8 milioni di euro per la cessione definitiva del cartellino, al giocatore l'Ascoli ha proposto un contratto con scadenza giugno 2021. Nelle prossime ore o al massimo all'inizio della prossima settimana si aspetta il sì definitivo di Gans e del suo entourage per la chiusura dell'operazione. Sul fronte difesa il Pescara invece è vicinissimo al difensore scuola inter Andrew Gravillon. Il giocatore Franco Guadalupense è pronto a sbarcare in riva l'Adriatico in prestito dal Benevento, squadra che lo aveva acquistato in estate a titolo definitivo. Non è però tramontata l'ipotesi del difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini. Sul fronte uscita non si è ancora concretizzata la cessione di Antonio Mazzotta che andrà via perché il Pescara non ne rinnoverà il contratto in scadenza. Il Brescia ha scavalcato l'Ascoli ed è in vantaggio sul difensore ma nelle ultime ore si è registrato anche l'inserimento del Parma.